Si sta avvicinando la tanto attesa fase 2 della gestione dell'epidemia, ma un vero ritorno alla normalità appare piuttosto lontano. Nel frattempo prosegue la lenta ripartenza del paese in attesa di nuove disposizioni dal governo. Oggi nella provincia di Pesero Urbino sono stati riaperti 13 uffici postali, il cui orario di apertura al pubblico era stato temporaneamente modificato, come quello dei locali di via Garibaldi a Fano, per contenere la diffusione del covid-19. Noi siamo rimasti sempre aperti, è stato un ufficio che è stato sempre aperto, abbiamo solo chiuso il turno pomeridiano dal 18 di marzo. L'orario d'ufficio è dalle 8.20 alle 13.35 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, il sabato mattina è aperto dalle 8.20 alle 12.35. L'azienda ci ha fornito subito di tutti i dispositivi di protezione individuali e anche di gel igienizzanti sia per noi sia per la clientela. Inoltre, per garantire le dovute distanze tra il personale e i clienti, sono diverse le misure adottate. La riapertura degli uffici postali della provincia di Pesero Urbino è stata possibile anche grazie all'adozione delle idonee misure di sicurezza, come ad esempio l'installazione di pannelli di plexiglass e di posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscono il mantenimento di un metro di distanziamento interpersonale fra noi e le persone che entrano nell'ufficio postale. In più, hanno comunque nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute dei dipendenti e dei cittadini. Poste Italiane invita i cittadini a entrare negli uffici solo per compiere le operazioni essenziali e indifferibili. È importante poi indossare guanti e mascherine e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro sia all'interno che all'esterno dei locali.